Poliambulatorio senza autorizzazione per i tamponi, sequestrato dai carabinieri. Incendio di Petriano trovati nuovi alloggi per le famiglie evacuate dalla palazzina. Abbandono dei rifiuti a Tavuglia si installano alle telecamere. Anche a Pesaro questo sabato artisti e lavoratori dello spettacolo scendono in piazza. Grazie a tutti. Questa sera partiamo con la cronaca e torniamo ad occuparci del sequestro da parte del Comando dei Carabinieri di Pesaro del Poliambulatorio Igea Policlinica, nel quale venivano effettuati i tamponi per la ricerca di positivi al Covid-19 senza l'adeguata autorizzazione dell'Asur, che si è già messa alla ricerca di chi si è sottoposto al test presso il centro. Vediamo tutti i dettagli in questo primo servizio di Daniele Romagna. È stato posto sotto sequestro dai Carabinieri di Pesaro il Poliambulatorio Igea Policlinica. L'accusa è quella che nel centro si effettuassero tamponi senza l'autorizzazione necessaria da parte dell'Asur. I referti dei test sarebbero stati firmati non da un medico come richiesto dalla normativa, ma da un'infermiera, amministratrice del Poliambulatorio. L'esecuzione dei tamponi dunque non è mai pervenuta all'Asur. Inoltre, nel caso di positività di qualche test, al paziente veniva indicato di contattare privatamente il proprio medico di base per comunicarne l'esito, a differenza quindi di quanto indicato dalla legge regionale per il tracciamento, che prevede da parte dei laboratori l'immediata segnalazione dei nominativi dei positivi al centro di prevenzione. Sembrerebbe poi che alcuni tamponi rapidi siano stati venduti ai clienti come test molecolari e quindi a un costo più elevato rispetto alla prima tipologia. In realtà però pare che nessun laboratorio abbia mai preso in carico l'analisi dei molecolari del centro Igea, che avrebbe quindi effettuato unicamente tamponi rapidi a prezzi superiori rispetto allo standard. Diverse irregolarità di carattere non solo amministrativo ma anche penale per le quali la responsabile è stata denunciata. Nel frattempo l'Asur ha attivato tutte le procedure per risalire a chi si è sottoposto al tampone nel poliambulatorio a cui sono stati apposti i sigili dei carabinieri. Tra questi anche alcuni studenti della scuola media Don Gaudiano. Tengo a dire che è un poliambulatorio che aveva una autorizzazione per effettuare solo prestazioni mediche specialistiche, che non aveva nessun convenzionamento col sistema sanitario regionale e quindi con il distretto di Pesaro. Praticamente era autorizzato dalla regione solo per fare alcune prestazioni, ma non era assolutamente autorizzato per effettuare tamponi rapidi o tamponi molecolari per la ricerca di Covid-19. Noi abbiamo avuto un paio di segnalazioni, una di un pediatra che ci ha inviato questo referto, che era con questa carta intestata, che noi non eravamo assolutamente a conoscenza che fosse stato autorizzato dalla regione, e di fatti non lo era e quindi immediatamente è stato segnalato. Poi ci sono state le indagini dei carabinieri che hanno poi posto i sigilli e visto che effettivamente non era autorizzato. Io come direttore del distretto di Pesaro ho inviato ieri una mail a tutti i medici di medicina generale, a tutti i pediatri di libera scelta del distretto di Pesaro, perché probabilmente i cittadini sono coinvolti rispetto a Fano e a Urbino, chiedendo questa cosa, di contattare il Dipartimento di Prevenzione a un numero che lo vedete qua sovra impresso e che comunque è stato mandato a tutti i medici di medicina generale e pediatri, quindi qualsiasi persona si può rivolgere al proprio medico, per comunicare se ha fatto tamponi in questa struttura, perché ricordo e ribadisco non era autorizzata. Abbiamo fatto questo appello alla popolazione, quindi ai medici di medicina generale, di stare molto attenti, perché non siamo sicuri che i carabinieri abbiano trovato che l'elenco sia esaustivo, insomma, di tutte le persone che hanno effettuato tamponi sia antigenici rapidi che molecolari in questa struttura. Poi dopo il Dipartimento di Prevenzione valuterà quando sono stati fatti e il perché e valuterà se ripetere il tampone, logicamente, col sistema pubblico. C'è questa scuola, che è una scuola media di Gaudiano, di Pesaro. Alcuni, sappiamo che qualche genitore e qualche studente ha effettuato i tamponi presso questa struttura. Pertanto il Dipartimento di Prevenzione ha inviato una nota alla preside della scuola comunicando che c'era stato questo blitz e questo che era successo, così da sensibilizzare anche i genitori e gli alunni a comunicare se effettivamente hanno fatto questi tamponi in questa struttura, perché a noi non è arrivata assolutamente nessuna comunicazione, oltre a non sapere se quei tamponi sono stati effettuati veramente e come sono stati effettuati, con quale metodica. In primo piano torniamo a parlare ancora di cronaca e parliamo dell'incendio che ha coinvolto una palazzina di grandi dimensioni a Petriano e che ha costretto all'evacuazione i residenti di cinque appartamenti all'interno dello stabile. Per i soggetti coinvolti sono già state individuate nuove abitazioni, come ci racconta in questa prossima intervista il sindaco di Petriano, Davide Fabrizioli. L'incendio c'è lunedì sera all'incirca verso le ore 21, fortunatamente non durante la notte perché altrimenti sarebbe stato un disastro. Le persone coinvolte sono 14 persone per un totale di cinque appartamenti che attualmente sono stati evacuate e le relative famiglie in questo momento sono ancora da amici e familiari, ma da ieri sono stati già assegnati a loro cinque nuovi alloggi, tre a Monte Ciccardo e due a Montelabate. Adesso c'è un problema logistico, nel senso che ci stiamo attrezzando per reperire arredamenti, abbigliamento e tanti altri beni di prima necessità alimentari e quant'altro per poter far ripartire degnamente tutte queste cinque famiglie. Tengo di poter dire che già da sabato, se non tutte, tre o quattro famiglie potranno già rientrare. Delle tre persone portate in ospedale, una è stata dimessa, tutte e tre sono state dimessi, una nell'immediato, mentre invece le altre due necessitano di medicazioni che verranno effettuate a casa, hanno delle fasciature, hanno delle scoriazioni dovute chiaramente all'incendio, alle braccia e dal viso. Nel frattempo ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda le cause precise da cui è generato l'incendio? Allora, sono in fase di sviluppo gli accertamenti, però è molto probabile che trattasi o di una lampada o di una stufa di una stufetta a liquido in famiglia, infiammabile, al 99% e questa dovrebbe essere la causa scatenante. Partita da un appartamento in un salotto, che comunque c'era sia il salotto sia la lampada con liquido infiammabile, sia la stufa, sia un'altra stufetta e da lì poi divampato all'interno dell'appartamento e anche negli altri. In questo momento tutti gli nostri sforzi devono essere profusi per cercare di dare immediatamente un alloggio nuovo e degno alle 5 famiglie sfollate. Chiaramente siamo già in contatto con i tecnici del Comune, le ente ERA e poi ci saranno dei sopralluoghi anche da parte delle assicurazioni perché è nostra premura partire immediatamente con una valutazione tecnica e dei lavori da fare e ripristinare il primo possibile gli attuali alloggi. Chiaramente all'interno sono devastati, speriamo che la struttura portante e piramidale possa essere non sostituita perché a quel punto è luce o no diventerebbe un intervento strutturale importante e non riuscirei a quantificare nell'immediato i tempi. Mentre invece è mio interesse e anche comunque della comunità farli rientrare, speriamo, nell'arco di 8, 9, 10 mesi Consueto spazio dedicato agli aggiornamenti del coronavirus per quanto riguarda il servizio sanità della Regione Marche infatti ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.384 tamponi, 3.337 nel percorso nuove diagnosi 2.047 nel percorso guariti I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 480 con 105 casi in provincia di Pesaro Urbino Il servizio sanità della Regione ha inoltre comunicato nelle Marche le vittime hanno superato quota 2000 con la notifica ieri sera di 15 nuovi decessi a livello regionale una vittima era residente nella provincia pesarese E adesso lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni In questo caso parliamo di rifiuti e in questo prossimo servizio vi mostriamo delle immagini inviate proprio da alcuni telespettatori che denunciano l'abbandono di rifiuti in alcuni punti della città Una denuncia importante sempre per l'abbandono incontrollato di spazzatura arriva anche dal primo cittadino di Tavuglia Francesca Paolucci che ha deciso di installare delle telecamere per incastrare i responsabili Non si fermano le segnalazioni da parte di diversi cittadini che denunciano l'abbandono di rifiuti dislocato in diversi punti della città Le più recenti in ordine cronologico riguardano il quartiere della Celletta dove pochi giorni fa in via Tomasini i residenti hanno segnalato la presenza di un secchio patiscente contenente dell'olio esausto Poco distante in via Brandani accanto ai cassonetti è stato abbandonato e non ancora rimosso un sanitario così come sono diversi i rifiuti che ciclicamente vengono rinvenuti ai bordi del fiume Foglia Le denunce però non si fermano unicamente al comune di Pesaro A Tavuglia infatti il sindaco Francesca Paolucci ha sottolineato diversi episodi di inciviltà dovuti all'abbandono della spazzatura Da qui l'intenzione di installare delle telecamere utili a scovare i responsabili dei gesti illeciti Succede ovunque, vedo poi in qualsiasi comune posti di questo tipo però non è pensabile che nel momento in cui siamo dove i servizi ci sono dove le possibilità anche gratuite di raccogliere, smaltire i rifiuti esistono uno lascia, butta dal finestrino qualsiasi tipo di cose fa una passeggiata, lascia le bottiglie di vetro e tanto altro quindi i sacchetti addirittura vengono gettati dal finestrino delle macchine anziché buttarli negli appositi contenitori Non comprendo il motivo di queste azioni se non maleducazione, ignoranza non ci sono altre giustificazioni è chiaro che non si può essere più tolleranti bisogna, anche se non sono molto contenta di dover decidere di mettere telecamere ovunque perché la gente va controllata perché ritengo che le persone debbano anche avere la loro privacy sempre e ovunque però siamo arrivati al dunque quindi è necessario, abbiamo iniziato sono già state installate delle telecamere, delle fototrappola e sono già state riprese persone che gettano rifiuti li lasciano fuori dal cassonetto o lungo la strada anche ogni 100 metri più o meno ci troviamo una batteria di contenitori se vedi che un contenitore è pieno fai 100 passi e lo butti in quello più vicino invece no, si lascia lì e non è vero che la società deve compensare la tua inciviltà, la tua ignoranza tu devi fare la tua parte i rifiuti li produciamo noi non cadono dal cielo sono prodotti dalle persone le persone ne devono essere responsabili il servizio c'è e tutte le volte che dobbiamo andare a prendere rifiuti lungo le strade è un costo per la collettività Continuiamo a parlare di Tavulia perché il Comune ha deliberato l'adesione al progetto itinerario della bellezza creato 4 anni fa da Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord l'adesione di Tavulia, sottolinea il direttore Amerigo Varotti porta a 13 il numero di comuni aderenti all'iniziativa volta a promuovere e valorizzare i territori dal punto di vista turistico venerdì 5 febbraio alle ore 17.30 inaugura allo spazio Sora di Via Rossini 35 un allestimento visiografico di studenti e docenti della sezione di grafica del liceo artistico Mengaroni motore ispiratore della creatività la scarpetta di Cenerentola la fiaba delle fiabe di cui esistono al mondo più di 300 versioni anche a febbraio continuano gli incontri con gli autori in diretta dalla pagina Facebook di Pesaro Città che legge mercoledì 10 febbraio alle ore 19 Angelo Carotenuto presenterà le Canaglie mentre il mercoledì successivo alla stessa ora Maurizio Marinucci presenterà Lascia che sia l'amore infine martedì 23 febbraio sempre alle 19 Alessio Torino racconterà del volume al centro del mondo Retractive entra ufficialmente nel mondo del basket italiano diventando Official Recovery Technology Partner della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e del VL Medical Lab in qualità di leader della tecnologia del recupero muscolare Retractive porta direttamente alla VL le tecnologie di compressione, percussione e vibrazione utilizzate dagli atleti professionisti e dalle squadre di tutto il mondo Si chiama la marcia della liberazione la protesta pacifica che questo sabato come in altre città d'Italia andrà in scena anche a Pesaro davanti al Teatro Rossini e che vede protagonisti, gli artisti e i lavoratori del mondo dello spettacolo Tra gli organizzatori a livello locale c'è il musicista Mario Mariani che nella prossima intervista ci ha parlato dello svolgimento della mobilitazione È una manifestazione che si terrà in tante piazze d'Italia ed è una manifestazione specifica per artisti, musicisti e tutte quelle categorie che si sono trovate a mio avviso e non solo mio immotivatamente e ingiustamente chiuse e private della loro possibilità di svolgere il proprio mestiere Sarò quindi qui, vedete alle mie spalle un teatro tristemente e ancora immotivatamente vuoto il Teatro Rossini della Città della Musica Sarò io, porterò un pianoforte coda qua, proprio su questo suolo insieme a una ventina di altri musicisti amici e anche persone che si sono giunte che mi hanno contattato quando hanno saputo di questo evento e quindi manifesteremo la nostra arte ricorderemo alle persone, ai tanti che sembra in qualche maniera esserselo dimenticato avendo accettato questa nuova normalità che noi non accetteremo mai quindi riporteremo la musica in presenza come si dice, nell'attesa che si riaprano i teatri La manifestazione ha carattere nazionale il 6 febbraio in tante piazze d'Italia gli artisti sotto, diciamo, lo slogan l'arte è vita, perché l'arte è vita manifesteranno, riporteranno la loro musica in presenza e auguriamoci che siate in tanti quindi qui sabato 6 febbraio Teatro Rossini, Piazza Lazzarini dalle 15 alle 19 Arriva il 9 febbraio andrà avanti fino al 15 febbraio la settimana di raccolta farmaci organizzata dal Banco Farmaceupico 43 le farmacie aderenti nella provincia pesarese sentiamo quindi i dettagli in queste prossime interviste Dal 9 al 15 febbraio nelle farmacie che aderiscono alla giornata di raccolta potranno essere acquistati e donati farmaci da banco agli enti abbinati alle singole farmacie enti che sono enti nei pressi che risiedono nei pressi delle farmacie di modo che la clientela può assolutamente essere certa di dove andranno L'anno scorso sono stati raccolti circa 4.000 farmaci con un numero inferiore di farmacie che quest'anno sono 43 e hanno soddisfatto potete immaginare il bisogno di quanti bisognosi circa 1.300 quindi direi che è un numero notevole ma che quest'anno avrà ancora più bisogno di essere aumentato perché le esigenze sono assolutamente aumentate in maniera esponenziale Va dato atto a tutte le farmacie sia le farmacie comunali che le farmacie private che in questo anno di pandemia hanno svolto un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio sanitario regionale non solo perché sono stati il primo e l'unico probabilmente in alcuni momenti della pandemia punto di riferimento sanitario aperto in cui il cittadino utente ha trovato parole di conforto ha trovato consigli molto spesso anche farmaci tutte le farmacie hanno lavorato anzi quasi tutte a battenti aperti proprio con uno spirito di servizio estremamente importante e questa cosa si ripercuote e continua si perpetua mettiamola così anche in occasione della raccolta del farmaco promossa dal banco farmaceutico sono diverse le farmacie in città e sul territorio provinciale che hanno diritto permettendo appunto di poter dare sollievo ai tanti che sia pre-pandemia che poi in maniera aggravata durante la pandemia hanno perso il lavoro hanno difficoltà economiche e con i farmaci che verranno raccolti potranno avere come dicevo prima assistenza da parte di enti a cui poi verrà girato il tutto quindi la farmacia al centro dell'azione sanitaria in maniera importante e preponderante è sempre più riconosciuta e in chiusura parliamo di calcio di sport e non possiamo non raccontare il risultato della partita di ieri che ha visto la vis Pesaro impegnata contro il Ravenna match terminato con un pareggio 0 a 0 e che permette quindi ai biancorossi di portare a casa un nuovo punto in classifica e queste sono tutte le notizie per la giornata di oggi chiaramente vi consigliamo sempre di seguirci sui nostri social o sul nostro sito per essere aggiornati su tutta la programmazione di Rossini TV intanto questa sera in prima serata continuiamo a parlare di sport perché torna una nuova puntata di Insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro alle 21.15 gli ospiti che vedrete in tv sono Henry Drell Ala della VL Roberto Occhialini titolare di Stile Ricamo SRL Simone Flamini ex giocatore della VL tra l'altro molto conosciuto appunto nella città di Pesaro non perdetevi questo appuntamento e poi andiamo anche con gli ospiti di domani a Casa Rossini non so se sapete che cos'è Casa Rossini Casa Rossini è il nostro salotto mattiniero in diretta il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 10 siamo in diretta tv e diretta facebook entriamo direttamente nelle vostre case con tanti ospiti gli ospiti di domani sono Alessandro Berti che è professore universitario e formatore poi avremo con noi Moreno Bordoni segretario provinciale di CNA Pesaro Urbino e la signora Paola Tittarelli che è presidente degli amici del ROF signora insomma amante della musica e molto conosciuta nella città di Pesaro avrà tantissime cose da raccontarci e poi vi ricordo la rassegna stampa di domani domani vi aspetto alle 7.20 in diretta con la lettura dei titoli dei quotidiani locali in replica alle 8.15 e poi a seguire tutte le repliche durante la giornata Io invece adesso vi lascio con il meteo vi do appuntamento chiaramente a domani con voi alla conduzione della rassegna stampa ci sarà Daniele Romagna quindi appuntamento a domani alle 7.20 Buona serata